È bello essere qua oggi, è bello essere qua non in un giorno che per forza viene legato al tema della violenza sulle donne perché molto spesso riduciamo al 25 novembre una lotta che deve essere quotidiana. Sono qua perché The European House Ambrosetti vuol dire anche solidarietà. Siamo qui tutti insieme come azienda per far capire a tutte le donne che non sono da sole. Ci credo e dobbiamo dare un segno concreto e tangibile anche fuori. Le donne vittime di violenza non devono essere sole, non devono essere lasciate sole. Mi è venuto in mente di fare questo piccolo gesto ma è importante perché chi si siede qui magari ha bisogno proprio di questa targa, di questo numero e di ricordarsi che non è da solo. Un piccolo gesto che ha un grande significato e speriamo un contributo concreto. Sulla targhetta c'è scritto 1522 e il numero antiviolenza speriamo non serva mai. Chiunque passerà da qui come davanti a altre panchine rosse che ci sono nel municipio deve pensare che la violenza non è solo femminicidio e il numero che c'è sulla targa è importante perché è un numero per chiedere aiuto ed uscire dalle situazioni di violenza. Raccontare la scelta culturale di non mettere mai più un genere davanti all'altro, di non mettere mai più la forza fisica davanti ai valori di una persona e del vivere in una società in cui finalmente al di là del proprio genere possiamo tutti sentirci liberi e liberi di essere noi stessi. Non siamo sole! Grazie a tutti!